Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno, oggi è lunedì 23 novembre 2020, siete sul canale 17 di Fano TV, questa è l'informazione in diretta con la lettura, la selezione dei giornali, delle pagine dei giornali Carlino Corriere Avriatico che troverete come sempre in edicola, noi abbiamo selezionato le pagine più importanti tra le tante sportive che come sempre affollano l'edizione del lunedì e tra poco le andremo a vedere leggendo i titoli, magari approfondendo qualche notizia e commentandole. Allora, prima però partiamo dal santo di oggi, vediamolo, la chiesa ricorda oggi San Clemente I romano, è stato il terzo papa, c'è San Pietro, poi c'è un altro di cui non ricordo, poi c'è San Clemente. Ok, andiamo a vedere l'alba, l'alba alle 7.17, poi il tramonto alle 16.38 minuti e vediamo anche il tempo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la protezione civile delle Marche prevede cielo sereno poco nuvoloso, con temperatura in diminuzione nei valori minimi, lieve aumento nei valori massimi. Questa mattina già c'era qualche gelata sul parabrezza dell'auto, insomma per dire che 3 gradi si sono fatti sentire, perlomeno qua nell'immediato introterra. Per la giornata di domani, martedì 24, siamo ancora con condizioni di tempo più che altro stabile, cielo regolarmente nuvoloso, con diminuzione della copertura al pomeriggio, tempo stabile fino alla giornata di venerdì. I giornali dal Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, il titolo d'apertura è Natale Express con il trenino, titolo del Corriere Santini e Vimini, si inventano una festa a prova di Covid e tutta a sostegno dei commercianti. Poi c'è il nuovo bollettino del virus, contagi in crescita, ricoveri stabili e i guariti superano quota 10.000. Centro pagina, sì fateci lavorare ma con una prospettiva, l'obiettivo è quello di riaprire il 3 di dicembre. L'epidemia di spalla, i guariti sono più di 10.000 ma il virus fa altri 8 morti. Sotto Eugenio stroncato da una leucemia da appena 20 anni, mentre il centrodestra locale sul sitino a Muraglia, farsa di un partito. A Vallefoglia per il biodigestore si osservi il principio di precauzione. Taglio basso, la vis stavolta non fallisce, battuto il Carpi, prima vittoria per il mister di Donato. Basket, una VL travolgente, ora è terza, contro Reggio finisce 86 a 63. Il resto del Carlino, Varani in TV, bloccata l'intervista, era prevista nei programmi della RAI contro la violenza sulle donne. Lucia Nibali, inaudito, raffica di reazioni. Un milione speso per il progetto, il progetto è quello dell'ospedale unico. Ora chi paga? Le aziende possono rivalersi. Intanto affano scintille tra il Partito Democratico e il Sindaco. La tragedia, addio ad Eugenio, stroncato dalla leucemia, aveva solo 20 anni. Polveri sottili sotto, già 27 sforamenti a Fano, grillini all'attacco della Giunta. La fotonotizia per lo sport, capolavoro vis, VL poker storico, di Donato doma il Carpi. Repegia liquida, Reggio Emilia, quarta vittoria di fila, non accadeva da otto anni. Mentre di taglio basso, in arrivo nuovi tamponi, meno invasivi e più veloci, l'Asur li sta mettendo a punto. Anestesisti e infermieri trasferiti a Civitanova, il primario di Urbino, dice, mancanza che peserà. Oltre 3.000 casi in 20 giorni. Siamo sulla cronaca di macerata del resto del Carlino, ma l'indice RT continua a calare, dice il governatore Francesco Acquaroli, 45 anni, che ha la guida dalla Regione dallo scorso settembre. La provincia di Macerata è seconda in Regione per nuovi contagi, Acquaroli però è fiducioso. Presto avremo novità importanti. La scorsa settimana avevo affermato che il contagio stava rallentando, scrive Acquaroli. In effetti il famigerato indice RT, risultato pari a 1,17, ha confermato quella previsione. Anche nella settimana appena conclusa si è registrata un'ulteriore flessione dei soggetti sintomatici. I contagi vanno su, titola il Corriere Adriatico a pagina 2. Ricoveri però sono stabili, guariti sopra quota 10.000, rialzo con 529 nuovi positivi, due pazienti in più in terapia intensiva, impennata di dimissioni, 20 persone, ieri altre otto vittime, tra cui un paziente di 39 anni morto a Iesi. Ecco il tampone meno invasivo e più veloce, sono i test rapidi antigenici strumentali, processati da una macchina, danno il risultato in metà tempo rispetto ai molecolari. Si chiamano tamponi antigenici rapidi strumentali ed è una via di mezzo tra i tamponi molecolari gold standard e gli antigenici rapidi usati finora, che potrebbe consentire in contemporanea due cose, scrive il carino di questa mattina, tempi più rapidi di diagnosi e una maggiore sicurezza per interpretarne l'esito. Poi sono meno invasivi per il paziente, questo tipo di nuovi tamponi sono già arrivati al Dipartimento di Prevenzione che li sta testando e potrebbero entrare soprattutto in funzione entro pochissime settimane. Intanto c'è l'attacco del movimento articolo 1 alla direzione ospedaliera Marche Nord, troppi ritardi nelle diagnosi ci rimettono i pazienti. E poi di nuovo dal Corriere più territorio e più usca, così il centro-destra si porta in vantaggio con la sanità, si sposta il baricentro dunque fuori dagli ospedali, quindi con l'usca ovviamente nelle case, ecco la delibera che cambia l'assetto. Intanto otto infermieri di comunità dovranno coprire 50.000 persone, assistenza domiciliare integrata, fissati i parametri della Regione. Eugenio, il guerriero non ce l'ha fatta, stroncato a vent'anni da una leucemia, il nipote del presidente dell'UMPLI, Bartocetti, si è spetto sabato all'ospedale di Pesaro, aveva già perso il papà. Sotto invece a Muraglia, brutto spettacolo di un solo partito, Baiocchi e Malandrino, l'ospedale nuovo non è una battaglia dei cittadini e Ricci non doveva indossare la fascia. Quanto è accaduto ai Muraglia? È stato un brutto spettacolo, solo una battaglia politica, non dei cittadini. Ricci non doveva indossare la fascia tricolore. Una convenienza per loro chiamarlo nuovo ospedale, resta un ospedale unico, provinciale. Fratelli d'Italia con i suoi rappresentanti territoriali, il consigliere regionale Nicola Baiocchi, e il neoconsigliere comunale Daniele Malandrino intervengono duramente verso il presidio che si è svolto sabato e che vi abbiamo trasmesso nella pagina Facebook di Occhio la Notizia in diretta ed è un presidio guidato appunto dal sindaco Matteo Ricci. Anche il Carlino pubblica oggi sulla pagina 2 di Pesaro questa manifestazione per il nuovo ospedale, ospedale unico a Dio, ora chi paga le spese è il milione relativo al progetto presentato da Renco, capofila delle imprese. L'azienda per ora non si muove ma può ricorrere al giudice. E parla anche Mauro Papalini, titolare di una delle aziende appaltanti, non ho sentito parlare di legali, ma ci è costato due anni di lavoro. E il PD allarga il fossato su questo argomento con seri e il sindaco dicono ci ha delegittimato. Fano i democratici all'attacco dopo il caso Muraglia, sul nuovo nosocomio ci aspettavamo più coerenza. Oggi chiarimento in giunta, la lista noi città difende però il primo cittadino. Rischiamo infatti, dicono, di restare senza nulla. E allora andiamo a vedere cosa sta succedendo in casa fanese, ospedale unico a Pesaro, protocollo d'intesa Fano Regione del 2018, scintille tra il sindaco di Fano Massimo Serra e il PD che sembra voglia chiedere un chiarimento nella giunta politica di questa mattina e se necessario nella riunione di maggioranza di questa sera. Ci ha delegittimato, è l'accusa pesante, che muovono alcuni esponenti del Partito Democratico al sindaco. Ai PD non è affatto piaciuto che mentre il vice sindaco Fanesi, gli assessori Cucchiarini e Tinti, la presidente del Consiglio Comunale Cecchetelli, il segretario del PD Bacchiocchi e l'ex consigliere regionale Minardi, la segretaria provinciale Fulviella e il consigliere della provincia, Nicolelli, partecipavano sabato pomeriggio al presidio di Muraglia a difesa dell'ospedale unico, Seri invece dall'altra parte aprisse con il centrodestra regionale e di fatto, considerato superato il protocollo di Fano firmato da lui e Ceriscioli nel 2018, insomma, aprisse questo dialogo e di conseguenza mandasse in fibrillazione un po' tutto lo schieramento del PD e chiaramente Bacchiocchi, in rappresentanza del Partito Democratico locale, dice, beh, insomma, le parole, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco, dice il segretario cittadino, sono inaspettate, ci hanno colto anzi di sorpresa, mentre a schierarsi a fianco, al fianco del primo cittadino è il capogruppo Enrico Cipriani di Nocittà che dice, si dice preoccupato, che Fano rimanga senza nulla né Santa Croce, né la clinica privata, né la RSA e neppure 20 milioni di euro per la viabilità in sostanza e quindi è un po' argomenta, come dire, governa adesso il centrodestra, abbiamo a che fare con loro, cerchiamo di non rimanere solo per una battaglia ideologica, per una battaglia politica, di rimanere con il cerino in mano. Nuovo look per fioriere e rotatorie, fermate del bus affidate ai writers, l'assessore Brunori incarica asetami e associazioni per curare l'arredo urbano, mentre sotto, di taglio basso, grande presepa il pincio dei maestri carristi e la novità del Natale 2020 entro domani l'allestimento dell'albero nella piazza centrale. Collinetta del Bersaglio, sempre da Fano da ricostruire, la Giunta approva il progetto tecnico, l'operazione del costo di 185 mila euro richiederà un paio di mesi e ci sono anche delle prescrizioni della sovrintendenza. Abbiamo tutti, sappiamo tutti di questa collinetta, l'abbiamo vista, ci siamo saliti almeno una volta nella vita, perlomeno parlo per i fanesi, è quella che si affaccia sul mare, dove una volta si addestravano i militari della caserma Paolini. Si affaccia sul mare, siamo sull'ex pista dei go-kart, e che sta franando, si sta sgretolando, però è anche un bene culturale, se vogliamo, e lì da una vita fa parte ormai del paesaggio. Allora si sono battuti per mantenerla e verrà ricostruita, in sostanza, per farla breve. 185 mila euro per ricostruirla, per sistemarla. C'è un progetto, il geologo Ennio Palma, che ha consegnato alla Giunta di Fano, che quindi ha dato il via libera a questo intervento, che si propone di riportare la montagnola al suo stato originario. Fano sempre più frequente lo sforamento del limite massimo delle polveri sottili. 5 Stelle protestano, il Comune di Fano replica dicendo di aver aumentato il numero di centraline. Ora siamo a 5 dispositivi. Natale Express, i pesaresi vanno in trenino in questo Natale. Niente feste, neppure il tradizionale ritrovo la notte della vigilia in piazza per scambiarsi abbracci e auguri, ma l'idea è quella di un percorso invece per famiglie e bambini a bordo di un trenino di Natale. Un trenino, un Natale Express, così è stato ribattezzato, e che è stato pensato dagli assessorati alla cultura e alle attività economiche e che regalerà lo spirito natalizio ai pesaresi e una speranza alle tante attività del centro storico provate dalle restrizioni e dalle ricadute economiche dell'emergenza. Novità anche invece per l'allestimento delle luminarie, quindi le luci di Natale, su cui l'amministrazione ha investito 32 mila euro per luci di Natale con addirittura le note musicali. Insomma, velocemente, come funzionerà questo trenino? Vabbè, al di là delle note sanitarie, cioè alla fine di ogni corso il trenino verrà sanificato prima di ripetere lo stesso giro con il cambio dei passeggeri, un servizio che avrà un costo minimo, quindi si paga, ma solo gli adulti, poi i bambini invece andranno e viaggeranno su questo trenino gratuitamente. Un tragitto di quasi 12 minuti seguendo un itinerario già definito e pensato proprio a beneficio del commercio. La partenza di questo trenino è da Piazza del Popolo davanti al Palazzo delle Poste, poi toccherà circa una ventina di vie e vicoli pesaresi. Allora, sulla pagina di Vallefoglia, da Tavuglia, di gestore, preoccupazioni fondate, si adotta il principio di precauzione, il medico del Gaiso dell'ISDE chiede per l'impianto la valutazione di impatto sanitario, eventuali rischi connessi al materiale trattato, utile la qualità della differenziata. Sempre da Vallefoglia, a scuola meglio la gestione alternata delle classi, alcune mamme chiedono il ritorno in aula degli alunni delle prime e delle quinte superiori. L'ospedale di Urbino ha bisogno di altri interventi e finanziamenti. L'assessore alla sanità Elisabetta Foschi, che critica i sindacati per la protesta sulla trasferta dei sei operatori, parla sulle scelte del nuovo piano sanitario e appunto critica i sindacati. Protestano contro il trasferimento di sei operatori, quelli che hanno firmato l'accordo, dice la Foschi. Il premio Chialini ad uno studente del Laurana, Alberto Rossi vince la borsa di studio della fondazione Volta a Promuovere la Fisica. Da Urbino, però questa volta dal Corriere d'Arresto del Carlino, anestesisti e infermieri da Urbino-Civitanova, quattro unità dell'ospedale Feltresco, precettate da oggi per l'astronave. L'astronave è il Covid Hospital. Il primario dice, forze che vengono a mancare, ridurremmo comunque al minimo i disagi. Il problema, dice Paolo Brancaleoni, è che già il loro reparto soffriva di carenza di organi. Tanto il bollettino del Gores, stabili i ricoveri, sono 17, nelle nostre terapie intensive sono 85 casi positivi nella provincia di Presurbino, i decessi fermi a 546, che comunque è sempre bello mettere questo numero 546, così la gente rimane lì, gli va di traverso il caffè al mattino quando leggono il giornale. Se scuole di danza in rete, le evoluzioni sono online, questo è il titolo invece del Corriere Adriatico, collaborazione di Mila Dance di Pergola con Milano, Aosta, Arezzo e Aversa, è l'occasione per gli allievi di misurarsi con insegnamenti diversi, progettato per progetto per la disabilità. Ora, di taglio basso, la maestra Occhialini non sarà dimenticata da San Lorenzo in Campo, la scuola dell'infanzia dedicata, dedicata ad Anita Ligi. Poi, dalla pagina di Senigallia, la cronaca, traditi dall'auto in sosta, ladri presi nel ristorante, blizze dei carabinieri al tesoro dei pirati, in manette pure il palo, che era una donna, il veicolo parcheggiato sulla strada, insospettito i militari. Ora, l'analisi delle telecamere. E poi, i figli della vittima, gli orfani di Marianna all'ultima prova, i figli della vittima rischiano di dover restituire l'indennizzo, l'udienza all'appello il 9 dicembre. Covid e controlli, sempre da Senigallia, multati in quattro, trasgredito il coprifuoco, da oggi test antigenici rapidi nell'entroterra e scuole aperte, invece, ad Arcevia. Bufera per la piazza dedicata a Sfere Basta è un'installazione. Il comune di Cenisello Balsamo, in provincia di Milano, prova a giustificare la targa apposta in una piazza a questo cantante che si chiama Gionata Boschetti, ma in arte si fa chiamare Sfere Basta e avanza, direi io, che ha fatto infuriare i parenti delle vittime della strage della Lanterna Azzurra. Era prevedibile che un'iniziativa di questo genere avrebbe diviso l'opinione pubblica. Ora, non è sulla questione di dividere o meno l'opinione pubblica, era soprattutto la questione sulla necessità di farlo. Io penso che queste siano soltanto delle provocazioni che qualcuno a Cenisello Balsamo ha pensato di sfruttare per forse qualche minuto di celebrità per dire che esiste sulla cartina geografica Cenisello Balsamo, che io conosco benissimo avendo vissuto dieci anni lì vicino. Insomma, paese che dice poco e che quel poco che adesso ha da dire è peggio del silenzio. Quindi, insomma, cosa dire di una scelta del genere? Nulla, non c'è niente da dire. Lasciamo andare. Allora, adesso siamo alle pagine di sport. Capolavoro Biancorosso è andata benissimo a Pesaro perché la Vissa ha vinto 3-2 contro il Carpi, ha fatto un capolavoro e al Benelli è sinfonia, addirittura miracolo con il Carpi a fermarlo il misto artidonato, ma in campo c'è una squadra che brilla. L'Azzare superlativo di Paola è stata una rivelazione. L'Alma invece non gioca, ma s'allena a suon di match, partitella di due tempi, di due tempi da 40 minuti ciascuno durante i quali destro l'allenatore ha impiegato a rotazione tutti gli elementi della Rosa. Poi, anche sul parquet del basket della VL è andata benissimo, quarta meraviglia, la vittoria e ora si sogna. Travolto Reggio Emilia, 84-63, super delfino, Pesaro dilaga con il calo fisico degli avversari, festa grande per la formazione bianco-rossa che addirittura adesso è su in classifica. Mi pare che siano terzi, se non ho letto male, da qualche parte, ma le moto per chiudere la pagina sportiva, Marini e Morbidelli, Argento Vivo, i due pesaresi vice campioni del mondo in Moto2 e MotoGP, ieri sono saliti tutti e due sul podio. Luca ha sperato nel titolo fino all'ultimo, ho dato il massimo, ma Garner è stato fantastico. In Moto3 la gara è stata vinta invece dal poleman Raul Fernandez. E prima di chiudere, visto che tra poco, perché ci segue in diretta, c'è la messa, come tutte le mattine, dalla Santa Casa di Loreto, andiamo sul resto del Carlino, perché già si sta parlando di questa cosiddetta rivoluzione a messa. Nessuna rivoluzione, in realtà cambia il messale, il messale romano che sostituisce quello del 1983, in primis che cosa cambia? Cambia il Padre Nostro. Ne abbiamo già parlato quando era uscita la notizia diversi mesi fa, ma ci sono anche altre novità. Vediamolo perché sono interessanti. intanto questo cambio diventerà obbligatorio in tutte le parrocchie a partire dal prossimo 4 aprile, che è il giorno di Pasqua, però per il Natale alle porte già qualche diocese importante, Roma, Milano, quelle dell'Emilia Romagna, quindi con l'arrivo dell'Avvento si cambia già il messale, il messale romano verrà sostituito. Allora, per esempio, intanto vabbè, sul fronte della pandemia c'è da ricordare che c'è allo studio la possibilità di per la vigilia di Natale spostare, c'è una deroga di due ore, quindi il coprifuoco che quindi probabilmente ci sarà anche per tutto il periodo natalizio, per la vigilia di Natale sarà spostato dalle 22 probabilmente a luna, le due di notte, nel senso che si sta pensando di dare la possibilità alle persone di andare alla messa di mezzanotte e quindi di non incorrere nelle multe. Detto questo e si sta studiando. Allora, vediamo le novità, quelle pratiche. Il confiteor allora, confesso a Dio Onnipotente a voi fratelli, l'abbiamo sempre detto così. Ora, con il nuovo messale si allargerà l'orizzonte anche al genere femminile, quindi diventerà così, confesso a Dio Onnipotente a voi fratelli e sorelle. Poi, novità in vista anche per il Gloria, non si dirà più pace in terra agli uomini di buona volontà, ma pace in terra agli uomini amati dal Signore. e poi il Padre Nostro che è quello diciamo più, che forse ha ottenuto più visibilità anche sulla stampa in generale. Nell'ottica di assicurare una tradizione più accurata del Vangelo di Matteo viene sostituito il controverso passaggio dove si dice e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male e al suo posto si dirà non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. In questo modo si eviterà di insinuare nel fedele l'idea che sia Dio a spingerci al male, un cortocircuito teologico che Papa Francesco aveva censurato già nel 2017 e aveva detto non è una buona traduzione, anche i francesi hanno cambiato il testo con una versione che dice non mi lasci cadere nella tentazione, sono io a cadere, non è lui, non è Dio che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Anche se la nuova versione italiana del messale non può dirsi frutto di un'esplicita richiesta del Papa, certamente Papa Francesco ne ha accelerato la promulgazione. L'Assemblea Generale dei Vescovi l'aveva approvata nel novembre 2018, nel maggio successivo erano stati resi noti sia la confirmazio della congregazione per il culto divino sia il conseguente via libera definitivo del pontefice. Tempi strettissimi considerando che la CEI era impegnata sul punto dal 1988. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 ci sarà il telegiornale Occhio alla Notizia e poi ti enti pronto Riccardo perché ci dirai adesso chi è l'ospite invece di Primo Cittadino. E' Ucchielli siete con le foglie stasera dopo il telegiornale ma noi ci vediamo tra pochissimo dopo la messa perché tra poco come ogni lunedì torneremo in diretta per continuare la rassegna stampa e anche stamattina avremo alcuni collegamenti e alcune cose interessanti da raccontarvi. Quindi restate con noi qui sul canale 17. A tra poco. Grazie a tutti.